Non potevo immaginare chi l'avrebbe mai detto che Junior fosse così in gamba Stando alle previsioni di quel ragazzo avremmo dovuto essere annientati da due cyborg ma le cose sono andate diversamente Forse non siete così forti come ci aspettavamo Il dottor gelo deve aver sbagliato qualche calcolo nel costruirvi oppure Siamo noi che siamo diventati troppo forti per voi Ce l'abbiamo fatta senza l'aiuto di Goku Già Non mi piace che Junior e Vegeta abbiano raggiunto un livello di forza così straordinario però è servito a qualcosa Insomma si può sapere che cosa stai aspettando finiscilo subito altrimenti provvederò Non mi serve il tuo aiuto sono il figlio della parte malvagia che molto tempo fa si è divisa dal supremo non sono generoso come Goku Guardate Ma quello è Che ci fai qui Trunks? Trunks Lui si chiama Trunks Ha lo stesso nome di mio figlio Quel ragazzo viene dal futuro Ed è un Super Saiyan Ma allora Un altro avversario da battere Non conosco nemmeno quel cyborg Non lo conosco Ma chi è? Non ho alcun dato su di lui Chi può essere? Ho commesso un grave errore a sottovalutarli Devo tornare subito al laboratorio